Trattamento power white led, azione ultra sbiancante fino a 4 gradi di bianco in più in due settimane. Si attiva e disgrega le macchie sbiancando i denti giorno dopo giorno ad ogni sorriso. Cioè questa macchinetta di base non funziona, allora in primis questo via è semplicemente un dentifricio sbiancante, non ha niente che si attiva, o almeno ci fosse qualcosa che si attiva con la luce dovrebbero metterlo nella composizione e non c'è. Diciamo il funzionamento di base dei dentifrici sbiancanti è che semplicemente rilasciano una patina che funge da vernice e rende i denti più bianchi in quel momento. E anche il fatto di attivarlo con la luce, un po' sì, è figo perché c'è la luce ma non serve a niente. No, 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 questo è uno, qua siamo proprio a un livello veramente bassissimo.